Città di Castello e la diocesi Tifernate celebrano il 9 luglio una delle loro patrone, nonché figure, maggiormente oggetto di devozione. Santa Veronica Giuliani, la grande mistica morta in questo giorno, nel 1727, nel monastero delle Clarisse in centro storico. Proprio qui si tengono le celebrazioni a lei dedicate, che richiamano fedeli e pellegrini dal comprensorio e non solo. Per Santa Veronica Giuliani da dove? A Pecchio e Piobbico, un gruppo di parrocchiani che da anni svolgono questo pellegrinaggio, in pratica coinvolge un po' tutte le nostre zone. Siamo partiti da Fraccano alle 6 e un quarto e siamo arrivati qui per la Santa Messa, siamo con un gruppo di circa 20 persone. Fino a Fraccano siamo venuti con le macchine, poi da Fraccano per la via di Fontecchio siamo arrivati a piedi fin qui. Noi riconosciamo Santa Veronica come anche una nostra santa, perché Santa Veronica era Giuliani, ma di madre Mancini. La famiglia Mancini era da Pecchio. Una figura conosciuta in tutta Europa, tanto che anche i pellegrini provenienti dall'estero, in cammino sulla via di Francesco, decidono di fare una sosta nel monastero nel cuore del rione San Giacomo. Noi veniamo di Slovacchia, siamo 16 pellegrini, noi vogliamo fare camminare tutta la via franciscana. Quando siamo stati qui noi abbiamo avuto una sorpresa che Veronica è stata morta questo giorno, allora abbiamo trovato questa festa con molta gente così, siamo molto lieti di avere questa possibilità di vedere quei posti.